Buongiorno, sono Galeo Girotti, responsabile di GVC Professional Europe in Italia. GVC, come tutte le manifestazioni, partecipa anche quest'anno al Photoshop, presentando come novità assoluta la nuova telecamera Gipson HM Q10, il primo cancorder al mondo con la possibilità di registrare in 4K. 4K è una definizione di altissima qualità che permette di dare l'opportunità anche in visibilità live di avere il massimo della risoluzione oggi possibile sul mercato. Avremo la possibilità di poter vedere queste immagini sia sui monitor, sui tv e sui proiettori con la possibilità di avere questi formati ad altissimo livello e ad altissima qualità. Vi ringrazio dell'opportunità di aver visto questo prodotto e vi invito a testarlo e a provarlo presso i nostri rivenditori, i nostri centri di vendita.